Una distrazione, una tragica fatalità è ciò che non dovrebbe mai essere stato. È un pomeriggio di sole tra le case in campagna di via strada del palazzo a Pescara. Un uomo alla guida di un piccolo trattore tra gli olivi sta accatastando forse delle sterpaglie. A pochi metri da lui il figlio, Luca, di appena 4 anni, in sella la sua biciclettina. In un attimo, chissà perché, chissà per come, il terribile impatto. L'uomo preso dalla disperazione soccorre immediatamente il piccolo, ma ormai non c'è più nulla da fare. Sul posto un clima irreale, personale del 118 con le mani tra i capelli, il padre sotto shock portato via. Negli occhi degli agenti della polizia locale, a partire dal comandante Danilo Palestini, anche lui sul posto il più totale smarrimento. Ci sono anche i carabinieri, la polizia scientifica e il medico legale, la dottoressa Jezzi. Lo prevede il protocollo. Sono necessari dei rilievi per comprendere la dinamica e le cause della morte, per comprendere ciò che non si può comprendere, ovvero la morte di un piccolo angelo di soli 4 anni.